è una partita di lusso certamente impegnativa soprattutto dopo una settimana perché fondamentalmente abbiamo iniziato a lavorare il venerdì scorso sono stati su giovedì quindi con una decina di giorni sulle gambe con parecchi giocatori che sono arrivati nuovi e alcuni anche negli ultimi giorni è un moda che si andrà a giocare la partita in maniera molto molto serena andando alla ricerca di alcuni automatismi che stiamo lavorando in questi questi primissimi giorni però è chiaro siamo saremo lontani da un po' tutto da quello che dovrà essere il nostro il nostro standard di gioco anche tutti si devono conoscere come faccio generalmente ogni due tre giocato ogni due tre giorni che cambio le formazioni che si vadano a conoscere che si vadano ad amalgamare sempre nel miglior modo possibile dagli attaccanti ai difensori e tutto poi man mano che andremo avanti tra quindicina giorni andremo alla ricerca di una formazione base decisamente si è completa in tutto con l'arrivo di Silvestri sono i quattro difensori centrali sono le coppie in tutte le zone di campo davanti abbondiamo ancora di un paio di ragazzi quindi decisamente completa adesso staremo a vedere la fine del ritiro ma non del ritiro della partita anche di coppa italia quella colpisa prima faremo valutazione di quello che che stiamo stiamo facendo sia sto spero tecnico tattico e i ragazzi come stanno andando se riteniamo che ci manchi qualcosina ma non credo siamo al completo